Il mio protocollo è una italiana, sei in perfette mani, di Gaeta, questo progetto di Vento Tene è bellissimo, lei l'ha visto? Il mio protocollo è un progetto di Vento Tene. Il mio protocollo è un progetto di Vento Tene. Il mio protocollo è un progetto di Vento Tene. Il mio protocollo è un progetto di Vento Tene. Il mio protocollo è un progetto di Vento Tene. Il mio protocollo è un progetto di Vento Tene. Il mio protocollo è un progetto di Vento Tene.